Cosa può fare Rimini per convincere l'università a radicarsi sempre di più sul territorio? Rimini non è che può, deve. Deve perché senza università non c'è quella conoscenza, quell'innovazione per le imprese, quei fattori aggreganti anche da un punto di vista sociale che permettono alla comunità di provare ad uscire dalle crisi o interpretare il cambiamento. Se l'università multicampus Alma Mater cresce al ritmo del 5% annuo, gli studenti del polo riminese crescono del doppio. Per questo il rettore di Unibo e il sindaco di Rimini si sono incontrati per segnare un protocollo di collaborazione secondo cui la città si impegna a dedicare nuovi spazi agli studenti e Bologna ad aprire nuovi corsi di laurea e non solo. È tema della ricerca e dell'innovazione, rafforzando la vocazione sulle quali l'università di Bologna ha investito d'accordo con il territorio sugli assi del turismo, moda e benessere. Il sindaco è critico verso quei comuni che, come già fatto da Cattolica, intendono cessare le erogazioni di denaro all'attività didattica e giustifica così l'importanza anche per i vicini di investire nell'università. Faccio un esempio, 70 famiglie, 70 studenti sono di Cattolica. Quelle 70 famiglie hanno nell'università a Rimini la possibilità magari di mandare a studiare i figli e famiglie che magari non se lo possono permettere pagando l'appartamento a Bologna o il treno.